in cui il serpente si arrotola intorno a un bastone, una verga non è quello della medicina in cui ci sono due serpenti che si arrotolano attorno a un bastone con le ali quello è il caduceo non c'entra in questo caso in Egitto il serpente sacro era posto sulla fronte dei faraoni a simboleggiare la potenza e a proteggere il regnante in Cina il serpente era ed è tuttora il dragone quindi anche questo aveva una importantissima rilevanza religiosa in Grecia era legata alla spiritualità suprema e alla trasformazione in Oriente in generale era simbolo di potenza e di fortuna nel buddismo il serpente protesse Buddha durante la meditazione, mi pare comunque via di seguito in tutto il mondo, anche per i maia per i maia c'era la venerazione del serpente più umato Kulkan, Qesalkoatl un altro simbolo importantissimo del serpente è l'Oroboro ossia il serpente che si morde la coda che indica la rinascita, la reincarnazione dell'essere in una sorta di vita infinita cioè la vita infinita di noi intesi come anima e non come identificazione corporea non vi identificate con il corpo perché c'è molto di più se non ci fosse qualcos'altro voi non lo muovereste il corpo noi siamo esseri eterni non abbiamo bisogno della chiesa che ci spaventa con le immagini del Dio punitore sarete voi che giudicate voi stessi la danazione del serpente avvio con la tradizione ebraica stante a indicare la solita ed eletere manipolazione religiosa aggiungo atta a soverchiare e manipolare le masse dei fedeli e soggiogarli per i motivi più disparati in primis quello di comandarli e sottometterli quindi il serpente diventa Satana mi viene in mente un'altra manipolazione che è quella di Lucifero l'angelo più bello, il portatore di luce anche questo associato a un demone sempre per il motivo di cui sopra per spaventare i fedeli, i credenti che vanno a me si ascoltano sommessamente quello che affermano i preti e i ministri del culto senza mai analizzare da dove nascono tali dicerie cioè se io dice il prete ci credono cioè ma ci facevo così anche io ma quando ero piccolo quando ero adolescente cioè se a me da adesso qualcuno mi dice qualcosa io la verifico cioè tu devi parlare anche un'ora decido io se mi hai detto la verità o no perché la riverifico mi fermo analizzo se una cosa non la so mi vado a documentare ma non da una fonte è la stessa cosa dovete fare voi con questo video documentatevi non ascoltate per forza quello che vi dico io documentatevi fatelo una classica una classica manipolazione prendiamo ad esempio il testo dell'Apocalisse di Giovanni il Nuovo Testamento dice afferro al dragone il serpente antico cioè il diavolo satana e lo incatenò per mille anni cioè io questa frase mi ricordo mi hanno fatto dormire un mio amico che pensava che solo per averla letta avrebbe avuto il demonio presso casa sua che si impossessava di lui cioè ma stiamo scherzando ma che compassione ragazzi ma come si fa questo ci aveva paura perché gli avevo fatto leggere sto pezzetto adesso viene stanotte ma chi vi è? ma viene nessuno ma chi vi è? ma questo è un sintomo di poca coscienza di come gira il mondo ma analizziamo allora ormai poi su internet si trova tutto dragone deriva dall'antico derkomai che significa osservare vedere serpente antico deriva dal termine nahas scritto n h s h che indica colui che diligentemente osserva o comunque una cosa di questo genere diavolo deriva dal termine greco diavolos questo lo sanno tutti ossia calugnatore ma allora è calugnatore diavolo significa calugnatore e quanti diavoli ci sono in giro? satana deriva dall'ebraico satan ossia ritardare ostacolare impedire nemico avversario accusatore anche qui ce ne sono tanti di satana in giro ma non è un essere eterico sono proprio le persone quante persone accusano ostacolano sono nemici tra loro allora dovremmo chiamare tutti satana pensiamo che nella bibbia ci sono proprio alcuni versetti in cui satana viene mandato da dio a punire i disobbedienti ma come non era l'avversario cioè la bibbia ci fa credere che satana è in contrapposizione con dio ma qui dio gli dà gli dei compiti sul libro di giobbe prendiamo il libro di giobbe l'altissimo gli manda satana per tormentarlo ma allora allora operano all'unisono oppure nel libro dei numeri 22 dio manda un angelo per ostacolare balam quindi nell'antico testamento satana era un fidatissimo del dio biblico che lo usa per ostacolare gli uomini ma perché il dio biblico non è un essere spiritualizzato è un essere in carne e ossa è questo che è che la gente non ha capito e quindi c'erano veramente questi angeli che ostacolavano e questi esistevano veramente guarda che sono fatti veri quelli quindi solo molto più tardi il termine satana sarà accostato al serpente dannando così la valenza di entrambi i nomi e i simboli e stessa cosa per lucifero incredibile ma è così la chiesa manipola proprio piacimento testi antichi e le persone pendono nelle labbe di un istituto che è tutt'altro che pulito tutt'altro che pulito finché non va giusta chiesa se ammiga messi bene quindi in conclusione possiamo affermare che Adam e Eva non sono due nomi propri ma simboleggiano la dualità simboleggiano la dualità del genere umano e hanno una valenza simbolica ma ragioniamo un altro fatto leggetevi la genesi leggetevi il vecchio testamento perlomeno la genesi guardate il pezzo dove c'è Caino che uccida Bele mi sembra che sia la genesi e Caino dice io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere ma come dico io io quando ho lessi questo pezzo ho ragionato molto ho detto ma non doveva essere il figlio di Adam e Eva quindi Adam e Eva fanno Caino e Abele Caino ammazza Abele e rimane solo Caino ma da Caino Adam e Eva sulla terra e perché si preoccupa si preoccupa di altri che lo possono uccidere se in teoria non ci dovrebbe essere nessun altro lo vedete come lo vedete come non tornano le cose ma è facile si legge la Bibbia e non ti torna nulla se crede a quello che ti dice la Chiesa è ovvio che non è così tanto che Caino si accoppia con una donna e questa donna la sua moglie partorisce Enoch famosissimo patriarca di Luviano a cui dobbiamo il libro di Enoch che è un testo importantissimo quindi dopo aver visto cosa significano Adam ed Eva dobbiamo decifrare la valenza del serpente perché altrimenti non riusciamo a capire i fatti del giardino dell'Eden e comunque della Genesi quindi facciamo un passo indietro gli Anunnaki i superiori generano l'essere umano per farlo lavorare al posto degli Gigi che si sono ribellati quindi questi Gigi quando si ribellano probabilmente fanno paura agli Anunnaki ricordiamoci anche di questa cosa qui cioè questi si ribellano e gli Anunnaki si spaventano quindi gli Anunnaki sono i superiori gli Gigi sono gli inferiori ma pur sempre dei quindi la preoccupazione degli Anunnaki era quella di generare l'essere umano solo per farlo lavorare e non per fargli prendere coscienza e consapevolezza che in realtà egli poteva fare di più che il semplice schiavo quindi la paura era che l'umano si rivoltasse come gli Gigi quindi ricordiamoci che nei passi del giardino dell'Eden si afferma che Adam e Eva girassero nudi per la terra e pare che è proprio così che venissero trattati degli esseri umani venivano lasciati nudi come le bestie ci sono delle anfore delle tavolette sumere che proprio fanno vedere gli umani nudi che scavano sono proprio dei reperti archeologici quindi ragioniamo bene sappiamo che gli Anunnaki per accontentare gli Gigi manipolarono l'uomo erectus generando l'uomo sapiens o di Neandertal ma noi sappiamo che l'attuale genere umano è derivante dal sapiens sapiens o di Cro-Magnon e sappiamo che la scienza non si riesce a spiegare come ciò se si è verificata in pochissimo tempo cioè manca l'anello mancante a mio avviso l'anello mancante ci sta mi posso anche sbagliare è nella Bibbia è nel libro di Emo fra quelli più famosi ovvio che ci sono anche altri testi magari meno conosciuti che ne parlano che ne parlano ugualmente vediamo la Genesi Bibbia quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra nacquero loro delle figlie i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero c'erano sulla terra giganti a quei tempi e anche dopo quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorirono loro dei figli sono questi gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi e ancora sulla terra c'erano i giganti quando i figli di Dio si univano con le figlie dell'uomo scelte tra le più belle quindi innanzitutto va detto che il termine giganti ha subito molte variazioni nelle diverse traduzioni della Bibbia effettuate nei secoli anche perché non tutti gli emmanuenzi avevano lo stesso livello di cultura sta di fatto che nella versione ebraica non si trova il termine giganti ma si trova il termine nefilim che significa caduta discesa rapida quindi i giganti in realtà divengono i caduti quindi annullate questa parola giganti di fatto alcuni libri giudaici ci parlano chiaramente di un popolo creato dall'unione tra i figli di Dio e le figlie dell'uomo anche questi testi ebraici scusatemi giudaici definiscono questo popolo col termine nefilim quindi il termine giganti va sostituito con nefilim questo non vuol dire che non vi fossero i giganti perché i reperti archeologici sui giganti ci sono però a mio avviso i nefilim oltre ad essere in alcuni casi giganteschi di statura erano semmai giganteschi in maniera eufemistica cioè si caratterizzava col termine si voleva più che altro caratterizzare il fatto che coloro che nascevano dall'accoppiamento tra i figli di Dio e i figli degli uomini erano semi dei nasceva un semi Dio questi erano esseri di sovrumana forza quindi vedi Eracle Achille Prometeo il Titano questi non sono miti a questo punto della storia se non l'aveste capito questi semi dei sono esseri con conoscenza superiore all'uomo alcuni molto alti ma altri alti come gli uomini a me in questo momento mi viene anche un altro facile collegamento sull'età ad esempio dei patriarchi prediluviani che questi nella Bibbia sta scritto che se prendiamo per buono molto di quello che c'è scritto nella Bibbia noi sappiamo che i patriarchi prediluviani vivevano quasi mille anni 900 anni 700 anni 800 anni io ci ho ragionato molto su questa cosa se è vero come risulta dei documenti